Andiamo al segno dei gemelli, è una luna sicuramente positiva quella che transita in ariete, parla di comunicazioni, parla di rapporti sociali e anche da un punto di vista lavorativo, professionale, potete trovare la giusta intesa con i vostri collaboratori, con i vostri colleghi, questa è una giornata in cui voi sarete anche molto vivaci, attivi, avrete voglia di mettervi in gioco anche, perché no? E quindi potete vincere facilmente una sfida, come? Ma affidandovi anche al consiglio di persone che ne sanno un po' più di voi, l'amore in questo periodo forse non è stimolante, vivace e spensierato come piace a voi amici dei gemelli, però questa venere nel segno del cancro tende a rendere più stabili i rapporti anche quelli appena nati.